Buonasera a tutti, Deo sei un bastore e te puoi per forza fuori dal basturizio. Questa è la basturizia, la basturizia sarda naturalmente. La basturizia è finita su un termine metagenerico, descrivete l'allevamento del sarveghe. L'allevamento del sarveghe, sarda, è completamente diverso dal su cui si pratica dal foro della Sardinia, quindi sul resto del suo mondo. Un fattore importante è che il sarveghe sarda produrre il latte. E in questo mondo, in tre, si attività per un anno del sarveghe, si salano, la produzione, e poi la pezza, e in ultimo bene sul latte. Non è che sia solo in Sardinia, che sia il sarveghe che produrre sul latte, ma in Sardinia c'è un particolare ancora, per uso originale, e probabilmente più bello, poi c'è. Prima di tutto c'è un animale brato, o massimo semi-brato, c'è che è il narre costo, che è libero. libero, e andata a si nutriri in questa maniera più naturale. Andata e si insevera da questa cosa che va a fare. Questo è il tuo portato, il seguito, di portare tutto il suo rifunto, il suo profumo e il suo sapore, di tutto questa cosa che è in Sardinia. E in Sardinia, mirai, del suo mondo in tre, è una delle spagge zone che è una percentuale altissima di cose naturali, di tutta questa essenza, di tutta questa spiglia, di tutta questa natura, di questo, di avere una cosa medio importante. Quindi, si deve fare un confronto con il suo, fuori della Sardinia, che ricorda che la Sardinia appartiene all'Italia, ma è in grado di un mare, del mare mediterraneo, quindi le conseguenze ha finito si isolata. Beh, appunto, con il suo appena prima, il suo attiroloco, poiché avviate la produzione del latte, e non solo, il suo animale è costretto, il suo amico, il suo nutrimento, quindi, il suo amico è il suo amico, il suo amico è il suo amico, il suo contrario è il suo amico, il suo confronto è abbastanza chiaro. Però, attenzione, questo è un vantaggio umano, e il suo Sardinia non ha rischi più mai valorizzato. Questo è proprio tempo, su una criticità, che si è fatta, il suo Sardinia non ha rischi più manifestato questo vantaggio. Le conseguenze, il suo portato, il suo Sardinia ha prodotto, il suo prodotto è bello, è riconnotto che è bello, ha cambiamento in corso, forse ha una realizzazione particolare, però si scontra con una storia che è sempre il suo guadanzo. Il suo guadanzo è venuto da assunnessi un secolo e mezzo, perché prima funzionava la meta di scambio, la baratta, l'antica, da un secolo e mezzo, più o meno, è entrato in maniera forte sui commerci, sui speculazioni, a suba del suo pastore. E chi è andato a guadanzo del gusto particolare? Chi è andato a guadanzo sui estetti attenti e parla del suo pastore, sull'industria, sull'industriale privato. L'industriale privato ha commercializzato il suo prodotto del suo pastore. Poi il suo pastore ha pensato a triballare e non porta niente a questa gonca in suo vattore del gusto importante che è il suo più surrealizzo, quindi abbenda del suo prodotto. In questo contesto, ci succede che a questo mercato, sui spazi più belli, più importanti, funziona il mauso appagoso della Sardegna e non è semplice a se chi vuole inserire o a sostituire a essersi. Naturalmente, sul mondo e l'amano i spazi sono andati, poca ridare. Però è una forza diibili del suo pastore. Il suo pastore ancora non ha pochi utenti, se no, in pago scaso, il suo modo, il suo opportunità di andare a s'inserire. Le conseguenze di questa scorsa hanno portato a reazioni, quasi rivoluzioni, comunque momentanei, dei movimenti o dei gruppi importanti che poi arrivano da questa parola a fare il burdello che poi sono non contenti. E questo è una cosa che è ciclica, ad ora di abissidi, come in questo momento è una situazione bella, sul senso che il prezzo di un prodotto principale che deriva da Sardegna, che è condotto del suo pastore, che è un peccolino romano, a Pigao torna quota a livello del mercato internazionale e come è torna contenta di un bagno di bruso rispetto a prima. Attenzione, il suo fatto che è contenta di questo momento e distraendo del suo fatto di questa reazione. Questo è un momento. E sul momento purtroppo gli schedevoli le storie che hanno imparato a tutti torneranno in questo momento a mare scuro. Quindi, il taglio di un altro è un'onore a chi ha reagito, a chi ha reagito, a chi ha movimento a massa può manifestare il suo disappunto a questi particolari. però questa azienda con facilità mi riporta su questo movimento dei pastori sardi che nasce con un'idea giusta, con un'idea bella e in un momento con un'idea giusto è un rilassato. E questa è una cosa che non va bene. Io sono rappresentante di un'azienda cooperativa che è finito a Brumman in Sardegna. È una cooperativa che tiene 46 anni di vita che è stata formata, che è stata costituita. Un passaggio lentissimo. Mirai, baranta, baranta, che in bannos sono enormi dalle. Però in Sardegna si è un lento o di questo tipo. Anzi, forse si è finita più lento. In questa maggior parte sono scarso più lento ancora. È una bella cosa. Però forse ormai questa cooperativa è diventata in manna. Lì è stato un sacrificio enorme da parte di chi ha amministrato prima di me, di tutti che collaborano con con Deo che è tutti i suoi soci e tutti i suoi collaboratori delle aziende sono dipendenti in genere, è stata impostata una regola, diversa regola che può arrivare a ottenere sul risultato che si è ottenendo. La regola non è pronta. Il sacrificio non è pronta a nessuno. Però se non vuole la regola se non vuole il sacrificio non si è ottenendo nulla. In Sardegna come come c'è come c'è una barata di inbighi medio-grandi 4 punti mini che si è ficcioso. Se non passano da serra usese o che non si è rai attiros nel senso che il pastore mi dispiace che non arriva devo usare il pastore e non arriva però fa in meta ha imitazione di sarve che tutto. Come si sposta da un si sposta all'attiro e questa cosa è proprio sbagliata. Appunto come ho detto prima la cosa si fa con passenza con intelligenza con il sacrificio che avuta buone si sposta sui pillastri poi poterà questa barraca a posto altrimenti la barraca dura da pari di anni ma lì è tutta largo po' po' il risultato che la cooperativa sta ottenendo oltre a la regola fissa di una collaborazione massima e importante con le università con gli organismi che hanno le tecniche di miglioramento può adeguare un modo modernizzazione poi attenzione una cosa importante è che vattuto che tocca sempre tenere presente su che si va e ha assai con i importanti valori che ha profondo e caratteristiche però non si paga adeguato poi tenere conto che chi compra questa cosa può dare cambiare il gusto guru e se lo compra tocca fin se si a preguntare ti andrà bene o si deve andare commentare se ti sbagliare dedico il buon zimbucco ma ti bravo no questo deve distare un concetto assolutamente superato noi siamo in questa direzione andando a entrare in mercato internazionale in questo ultimo anno se andando a ramificazione bella si va ad ottenere risultato interessante però sono sempre in proiezione per questo momento quindi si va a momento del gombo bilancio delle aziende punti stai per bellos poi si a chi va prima di o e bilancio disastroso po sono motivi che fu di prima soprattutto un monoprodotto e sconvolgere sul momento di euforia che ti ha il prezzo di un anno e non ti va a creare i presupposti questo è una cosa che chiede è assolutamente superata in cui torna sempre la caramella la caramella chi è bravo a fare di una po conto sua approfitta di questo particolare è sofferta este ingannevole bene con te o cadere bago di brusco come prospettiva non esiste di su pastore molla da sa conca a in questo momento non comprende nulla ma da ma rilanciao due centesimos impruso dessa cooperativa questo momento ma la questa cooperativa non bivide in un momento bivide come a vittre a spera può generazione ancora quindi è un obiettivo e tu ha la caramella che sono due centesimi sono a te per cedere purtroppo è facile cedere questo inganno continuo è una truffa una truffa e sulla storia deve stare in meda pruso attento a comprendere quindi questa abbastanza non fin mai questo rispetto da mimmi a tantos altri che driballano tra un dio è un driballo di missione che deve perdere tempo si deve distraccare a giocare su buono bastone alla che imparano se ottene cose importanti imparano che rinare di no la cooperativa che rappresentano imparano che rinare di esempio la cooperativa che ha creato situazioni assolutamente belle un caso edificio non di pagosano che finisce sempre in Sardegna ha costato questa bellezza di quasi 30 miliardi di vecchie lire e questa enormità non pagano su pastore secondo una parte pittia di contributo che ormai i contributi sono fatti sempre calando di misura questo in prospettiva deve rassanerare al pastore andare le denzo sono mia e su la storia deve comprender questo che è l'industriale non che sappiamo cioè faccio tutto e mi vendo io naturalmente l'organizzazione non deve essere fatta come il più caso del rappresentante di questa cooperativa di questa azienda che vengono da fare ogni cosa no assolutamente sul rappresentante per pensare a una istituzione di questa azienda come riferimento legale ma tutte le funzioni devono essere delegati aziende che hanno capacità a chi ha tecnica a chi ha commerciale e altri tipi amministrativi e altri sennò è un egoismo che danneggia a tutti quindi questa idea mia di proposta a un mondo di questo tipo è assolutamente a si voglia di imparare nonostante il schede tutti i fallimenti che determinati in sospitano cooperativi e consorzioni eccetera Maria che l'inchi spunto bello dentro il riferimento è portata assolutamente a tenne su risultato questa cosa più bella è tenne sorgoglio di essere arrenessi e questa scaramella si risa feo noi si risa su sa noi siamo aperti su isofreti su satiros